Questa mattina, i presupposti ci siamo un po' chiariti su che tipo di attori importanti che noi vogliamo dare, ci sono alcuni errori fatti, anche i loro dati, sono umani, quindi sono umani. Quindi per questa esperienza, anche se avrei preferito un consulmento con la mentale per altri tre anni, però a un certo momento ci andiamo creduti, quando diciamo che purtroppo abbiamo perso quella corsa, diciamo per i volenti, non c'entra l'anno e l'anno liberato, perdendo, perdendo, perdendo i punti con le squadre, l'ultimo della processione questo mi fa un po' meno, ma però su queste cose ci siamo confrontati, se possa servire un nuovo gruppo costituzionale, un po' più, che trovo ancora, sono un pubblico che sia un po' più importante che una città creda ancora molto in questa famiglia, non lo agono, senza questo tipo di stimoli, non lo sai, se non ci bisogna, per me sono un po' più Grazie a tutti.